Antonino Mancini, capogruppo di minoranza al Comune di Castelpizzuto, ha presentato un'interrogazione urgente alla sindaca del suo paese. L'avvocato vuole sapere da Carla Caranci in persona in relazione alla richiesta di inviaggiudizio per frana colposa di 10 indagati in discussione davanti al GUP di Isernia il prossimo primo febbraio, se tra gli indagati vi sia la stessa sindaca del nostro comune o anche il tecnico che, all'epoca dei fatti, fosse responsabile del RUP. Se la nostra amministrazione comunale si sia costituita in giudizio come parte civile o abbia intenzione di farlo in sede di Udienza GUP, le mie richieste, afferma Mancini, sono fatte in difesa degli interessi del nostro comune isolato da più di due anni e gravemente danneggiato. La storia risale al 2021 quando una frana provocò lo smontamento della strada provinciale per Castelpizzuto e il conseguente isolamento del paese. La frana, stando all'ipotesi della procura, sarebbe stata causata da alcuni lavori di ampliamento di uno stabilimento di acqua minerale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la Polstrada eseguì ben due sequestri dell'area interessata dalla frana. Le indagini, spiegò a suo tempo la questura, avevano portato a sequestro dell'intera area. I rilievi avevano interessato i lavori condotti all'esterno di uno stabilimento di acqua minerali. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti era che la frana fosse stata causata dai lavori ancora in esecuzione per l'ampliamento dello stesso stabilimento. Dopo i sequestri ci furono anche accertamenti tecnici da parte di un consulente nominato dalla procura e approfondimenti inerenti alla regolarità delle autorizzazioni presso gli enti locali competenti. Alla fine la richiesta dell'invio a giudizio per frana colposa nei confronti di 10 indagati.